Siamo con il presidente Giuseppe Pasini al termine di Feralpi Salò, Mantova 0-1, una partita sfortunata, conclusa con una sconfitta, ma forse non c'è solo la sconfitta perché durante la partita ci sono stati anche diversi infortuni, è nata male e è finita male da questo punto di vista. La partita è girata male, purtroppo sfortuna, abbiamo preso traversa, un gol che forse sul fuorigioco non c'era, il gol che ha fatto Ferretti, per cui partita molto maschia, non mi è piaciuto per niente la terna arbitrale perché sinceramente il Mantova è una squadra che ha picchiato molto e qualche cartellino giallo, insomma non faceva poi così male, ripeto non ho nulla da dire, i ragazzi ci hanno messo tanta volontà, sull'unico loro tiro abbiamo preso gol, questo colpo di testa, un bel colpo di testa di Guazzo, lì abbiamo preso gol e poi non siamo più riusciti a cambiare il senso della partita, però ripeto, questa volta ci ha girata male, non ho nulla da dire ai ragazzi, d'altronde il mister è arrivato da due o tre giorni, per cui non è che possiamo pensare di cambiare il volto di una squadra, però io rispetto all'ultima partita che abbiamo fatto qua ho visto comunque del gioco, ho visto una squadra più in salute, sono sincero non mi è piaciuto per niente la terna arbitrale, voglio andarmi a vedere certi episodi, ma su certi episodi veramente, anche perché hanno lasciato troppo correre su alcuni falli loro, per cui usciamo anche molto male, fuori Staiti stirato, Davini ha un dolore alla spalla, Ruffini pure, per cui, come hai detto tu, partita male e finita anche peggio. Grazie.